Come avevamo annunciato circa un mese fa, l'Avellino sbarcherà a Palena per il ritiro estivo. L'ufficialità è arrivata proprio questa mattina con una nota firmata dalla società Biancoverde. Il gruppo squadra, si legge, soggiornerà tra il 16 e il 30 luglio in due strutture alberghiere, Hotel Terrazzo d'Abruzzo, riservato a squadra e staff tecnico, ed Hotel Casa dell'Orso, che ospiterà invece la parte operativa e dirigenziale del gruppo. Entrambe le strutture vicine allo Stato degli Angeli, dove la squadra svolgerà le attività di preparazione atletica e tecnica. Palena è un comune votato allo sport. Investimenti importanti sono stati fatti dall'amministrazione retta dal sindaco Claudio De Miglio. Il centro sportivo è il fiore all'occhiello della provincia di Chieti e raccoglie campo, palestra ed aria buona per favorire l'ossigenazione. Ottima anche la collocazione, non molto distante da Vellino, per favorire anche le gite fuori porta dei tifosi, ma anche abbastanza distante per restare tranquilli e concentrati. Dalla società inoltre fanno sapere che la squadra ha già pianificato degli allenamenti congiunti, cinque in particolare, tre avranno luogo allo Stadio degli Angeli di Palena nei giorni 22, 26 e 29 luglio. Il primo vedrà come spari in partner dei Biancoverdi una rappresentativa locale, mentre restano da definire gli altri due avversari. A rientro in Irpinia seguiranno altri due test con luogo e data da definire. Possibile che si scelga di migrare in Irpinia con qualche compagine locale, anche per favorire il legame con il territorio ed ovviare soprattutto al problema dello Stadio Partenio che realmente potrebbe porsi. Tutto pronto dunque. La macchina è partita ed è pronta ad ingranare le marce che porteranno all'inizio del prossimo campionato.